Guarda bene su in alto Guarda in alto Yeah! Termolito la mano Figgi bene le stappe Bravo! Forciuti bene l'aria di vent'aria Voce! Trappi Yeah! Bravo! Systematic Trappi Bravo! Bene Destra Guarda bene dove vai Bravo! Bravo! Mano avanti Bene voce! Guarda avanti eh! Bravo! Così! Bravo! Dai sempre voce! Bravo! Così! Continua a montare! Muoviti lento! Bravo! Bravo! Allineala bene e poi piccolo! Guarda dentro e sposta un po' la mano! Ok? Bravo! Sposta dentro e guarda avanti! Bravo! Molto bene! Bravo! Voce! Voce! Continua dare le voce! 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 Bravo! Bravo! Preparati bene! Continua a spingere! Bravo! Adesso siediti bene col posto! Falla aspettare! Rilascia lentamente! Bene! Guarda bene! Guarda bene in alto! Fici bene le stappe! Oh! Bravo! Bravo! Continua a montarla eh! Aspettala Super, bravissimo Vai fermo dopo lo stop Guarda bene dove vuoi arrivare, pensa in alto Aspetta Bravo Ringraziamo Santoro Arco ed il butteggio è di 70 e mezzo